musica 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 poca misera stiamo qui 5 giorni e c'è anche il tempo brutto che palle e comunque si ha al parcheggio di un'ora 50 centesimi niente male welcome to Pula c'è una cavolo d'afa che non vi rendete neanche conto musica 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 Abbiamo fatto quanto? 5 ore di scaggia? Penso che da sera saremo abbastanza rossi tutti quanti ed ora andiamo a prepararci la cena Ciao a tutti, benvenuti a Parenzo, la vedremo per un'oretta e poi andremo in spiaggia come ieri Il moto giusto per spendere 12 euro ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti E dai ragazzi alla fine siamo arrivati all'ultimo giorno Devo dire che la Croazia è davvero molto sottovalutata Si è anche dista, è davvero molto sottovalutata Ovvio la Toscana è bella ma anche qua non è per niente male Ah e poi non ci sono le euro qua in Croazia ma ci sono le cune Che infine le cose costano un po' di meno però non così tanto E nulla, ora prepariamoci al viaggio di ritorno E ovviamente prima di andare via un'ultima città da visitare e siamo a Capodistria E prima di intraprendere il lungo viaggio di ritorno ovviamente una bella cosa faccio All'ombra di questa bellissima finestra lungo la strada E siamo arrivati alla fine di questa vacanza con questi due scemoniti Ma le vacanze non sono ancora finite perché stasera devo fare la valicia Che domani si parte per Berlino Ed anche voi settimana prossima dovreste vedere questi nuovi video E nulla, quindi io per oggi vi saluto e ovviamente un po' di po' a tutti